Una ricostruzione dei fatti destinata a far discutere di qui a lunedì, giorno in cui alle 16.30 al Centro Servizi per il Volontariato, l'ex Assessora Comunale alla Cultura, Sabrina Di Cosimo, dirà la seconda parte della sua verità, quella più pesante e relativa ai motivi che stanno dietro al suo defenestramento. Di Cosimo venne cacciata dal Sindaco Pierluigi Biondi il 12 febbraio, ultimo atto di un rapporto politicamente conflittuale che ha visto sempre Sindaco e Assessora su fronti opposti. Ieri sera, in una prima conferenza stampa a fiume di tre ore, arrivata fino a tarda serata, Di Cosimo attaccato a un muso duro con tanto di microfono e supportata dalla proiezione di video, screenshot di chat, whatsapp e documenti, tutta l'amministrazione comunale, da Biondi alla Giunta, passando per i consiglieri del suo partito, in particolare l'ex Vice Sindaco e attuale Assessore regionale Guido Quintino Liris, il Gabinetto e la Segreteria del Sindaco, rivendicando infine il lavoro fatto nei due anni di Assessorato. Dalla perdonanza al Carnivale e dalle luci d'artista agli spettacoli. Sono stata presa di mira dal primo giorno in cui sono stata nominata Assessora, denunciato di Cosimo, un isolamento del quale il mio partito è stato complice e connivente. Ogni giorno, ogni settimana il mio Assessore veniva spogliato di funzioni, di deleghe, di eventi da organizzare, sempre però a favore di un cosiddetto Assessorato Ombra, diciamo, nel gabinetto del Sindaco, diciamo così. Ovviamente il mio partito era in qualche modo, non so se complice, connivente oppure solo velatamente debole, per l'amicizia che c'era purtroppo, o per fortuna, tra il Sindaco e il Vice Sindaco, per questa indolenza, per questo comunque carattere mite sicuramente di Liris, che non riusciva forse a farsi valere davanti all'amico Biondi. Lei ha detto un partito, Forza Italia, che è stato distrutto dai suoi stessi appartenenti. Sì, un partito che è imploso al suo interno, con, diciamo così, anche l'ambizione di Liris di vincere per forza le regionali.